Si chiama Via Matris ed è una ripida salita con sette edicoli in cui sono rappresentati i dolori della madre di Gesù. Lassù in cima il santuario della Passione di Torricella Verzate, una sorta di sacromonte sui generis, sorto sulla cima di uno sperone di roccia di origine vulcanica nel 1700. Prima nel Medioevo, raccontano alcune fonti, qui sorgeva un castello da dove qualcuno sorvegliava il transito dei pellegrini verso la via francigena. Il recupero di questo sentiero, oggi semiabbandonato, è stato annunciato dal Comune che ha ottenuto un finanziamento di 100.000 euro dallo Stato, a cui aggiungerà altri 10.000 euro. Sarà messo in sicurezza, pavimentato, illuminato e verranno posizionate delle panchine, ha spiegato il sindaco Marco Sensale. Un piccolo intervento, insomma, che però è ricco di fascino e suggestione. Vuoi per il valore simbolico del punto d'arrivo, un santuario molto apprezzato da turisti e fedeli, vuoi perché rappresenta una riscoperta delle radici cristiane di questi luoghi, che al pare di altri in Europa sono attraversati da cammini religiosi che hanno saputo valorizzare interi territori, invertendo rotte di spopolamento e scarso sviluppo economico. Noi, avendo questa via Matris, una via dove ci sono le sette cappelle per i sette dolori, abbiamo pensato di poterla recuperare. Una volta su questa via transitavano i pellegrini, quando non c'erano logicamente il traffico di oggi, le macchine, c'erano solo i carri e i buoi, a piedi, in particolar modo il giorno del Santo Patrono, che comunque da noi è sempre la seconda domenica di maggio, transitavano molti pellegrini che venivano dalla pianura e passavano su questa strada. Poi è stata costruita l'altra, quella dove oggi attualmente si sale al santuario. L'intervento, sperando di poterlo fare come avevamo pensato, considererebbe nel pavimentare o in porfido o in altro materiale questo sentiero, creare ad ogni cappella, chiamiamola così, ad ogni stazione, creare un punto di seduta dove uno può tranquillamente o riposarsi o contemplare l'opera e illuminarla perché così è transitabile anche uno che vuol fare quattro pasti di sera lo può fare tranquillamente.